ha un vantaggio di 64 centesimi, non è poco, è un vantaggio che potrà consentire a Manfred di vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo? Non lo so, vediamo, porta per porta, intanto lo vediamo partire tranquillo, Manfred in bocca al lupo, partito Manfred Mörg Va bene pulito Sono qui con le ditte incrociate Le parole qui ragazzi, tanto le immagini, le vedete lo stesso, vi vedete con noi le nostre emozioni Ha perso qualche cosa, ma è partito bene, però si può vincere anche per un centesimo Vediamo soprattutto qui, ha tagliato un pochino, ha rischiato lì, in uscita aveva poco spazio, ma le ha chiuse bene comunque le porte Deve ancora avere due o tre decimi qua, un paio di decimi qui su Costec, che è stato straordinario sotto Fermati, orologio Ma ti sì, 46, 46 Appropriato di un certo vantaggio Vediamo questo cambio finale Ah, tirati su, ha toccato un attimo con il corpo la neve Sempre in segnare La situazione è pericolosa, ma lì è stato quasi graziato dal bordo della buca che l'ha tirato su Forza, forza che ce la può fare ancora Se vogliamo portiamo, ce la può ancora fare Piatto si è appoggiato, in un attimo si è ritornato in piedi senza perdere niente praticamente Però freddo, ha continuato a sciare con grande concentrazione e sicurezza, non ha perso la calma, non ha perso la testa Bella, applaude Nulla meritava più di tutti questa vittoria Bene Grazie a tutti